Vi ricordate ragazzi un paio di domeniche fa? A Gesù viene dato del matto, è fuori di sé, persino dell'indemoniato, allora i suoi familiari, a cominciare dalla mamma, fratelli, sorelle, cugini, la famiglia, va a cercarlo a Cafarnao per dire riportiamola a casa, questo sta dando di matto, è fuori di testa, ma Gesù non parte, parte però questa domenica, da Cafarnao va a Nazareth. Dove aveva vissuto probabilmente per quasi 30 anni, ma non va da solo, porta anche i suoi dodici amici, i discepoli, va dalla famiglia per presentare i dodici discepoli. Le avete presente? Quando abbiamo un amico, una persona di cui ci siamo innamorati, le portiamo a conoscere alla famiglia di chi si era innamorato Gesù, o meglio, quei dodici si erano innamorati di Gesù. Allora li presenta la famiglia per dire, vedi, questa è la nuova famiglia della comunità cristiana, una famiglia che ascolta la parola di Dio e la mette in pratica, dall'orecchio la fa entrare fino al cuore e diventa movimento. Lo conoscevano tutti a Nazareth, ai tempi di Gesù era un paesino forse di 200 persone. Sapevano che era il figlio del carpentiere, Giuseppe, e che la famiglia era lì, in quel paese, molto chiuso, diffidente ad ogni cambiamento. Che difficoltà! Portare un messaggio di novità. Anzi, gli dicono, ma tu sei uno scandalo! Sapete cos'è lo scandalo? Una pietà che ci fa inciampare. E quando inciampiamo, sapete cosa dobbiamo fare? Automaticamente un passo più lungo per rimanere in piedi. Gesù sapeva benissimo che l'avrebbero preso per matto, eppure va da loro. Aveva già calcolato di fallire. Ecco perché rimane in piedi. Fa il passo più lungo dell'inciampo che non era lui, ma erano i suoi compaesani e la sua famiglia. A Nazareth avevano sentito parlare di Gesù, aveva fatto miracoli. Pensate un po', tornando al paese avrebbero dovuto osannarlo, fargli una bella festa. Avete presente quando uno sportivo vince le Olimpiadi? Quando torna a casa nel suo paese o nella sua città? Fanno una festa incredibile. Quando i giocatori dell'Italia, non quest'anno, scusate, vincono il mondiale e tornano in Italia? Ehm, ma gioiscono tutti! E invece non è così. E quando siamo un po' intimi con le persone, quando conosciamo bene le persone, a volte non esprimiamo il meglio di noi, esprimiamo il peggio di noi. Quando c'è una persona che conosciamo poco, non conosciamo affatto, facciamo bene attenzione al nostro comportamento. Solo quando facciamo gli sbruffoni, eh? Ma ci teniamo alla nostra persona. Ma quando siamo con papà e mamma, con gli amici più intimi, con i fratelli e sorelle, a volte abbiamo il peggio di noi stessi. Non abbiamo barriere, non abbiamo argini. Tiriamo fuori il peggio, non abbiamo paura di fare brutta figura. Perché? Perché sappiamo benissimo che saremmo sempre accettati ed amati. Facciamo un po' i furbi, eh? E proprio a Nazareth Gesù doveva a predicare, in sinagoga dove tutti si trovavano a pregare. Il peggio dei peggio. Perché sai, finché fa miracoli, Gesù ci sta anche bene, andiamo anche a cercarlo. Ma quando comincia a predicare ci chiede delle cose troppo difficili da vivere, eh? È un po' come la Chiesa. Finché fa attenzione ai poveri, finché fa attenzione agli ultimi, finché si sbatte, eh? Perché tutti possano ritrovare o avere la propria dignità, eh? Benissimo. Ma quando comincia a predicare, eh? Che c'è un Dio unico, che ci vuole bene, che vuole bene a tutti, che non ci sono differenze, che bisogna perdonare, che bisogna arrivare anche ad amare i nemici, che la vita va preservata sempre, niente aborto, niente eutanasia, eh, comincia a dare un po' fastidio a questa Chiesa. Come Gesù nella sinagoga del tempo, del tempo di Nazareth. Perché facevano fatica ad accettare questa novità. e allora cominciano a fargli un po' di domande tra bocchetto. Ma da dove gli vengono queste cose? Quando pensiamo, è una persona inaffidabile. Può dire quello che vuole. Non lo ascolterò mai. Guardo più la persona. Che cos'è per me? Chi è per me? Non mi domando, ma mi sta dicendo una verità. Anche se può essere un po' fastidioso, un po' difficile da accettare. Guardo più la luna o il dito? Quando qualcuno mi indica una verità, guardo il dito, guardo chi me la indica e decido io se è una verità o guardo la verità. Anche se il dito può darmi un po' fastidio. Seconda domanda. Ma che sapienza è mai questa? Questo messaggio non viene dall'autorità, dalla tradizione. Non è affidabile. Questo messaggio non è certificato. O forse dobbiamo chiederci ma questo messaggio è vero o è sbagliato? Perché molte volte abbiamo bisogno della legge che ce lo certifici. abbiamo bisogno dell'autorità e invece dobbiamo chiederci ma questa sapienza che ha Gesù è vera o è sbagliata? E terza considerazione. Ma è un carpentiere. Il carpentiere era uno dei lavori più umili del tempo. Faceva il carpentiere che voleva dire aggiustare le cose, fare un po' di falegname, fare un po' il factotum, l'aggiusta tutto. vuol dire che non aveva terreno, non poteva guadagnarsi da vivere con il proprio terreno, doveva chiedere da vivere alle persone aggiustandogli le cose. E allora come si fa con questa persona a credere a quello che mi dice? Ecco, quante volte in base al mestiere il mestiere che uno fa vale tanto o vale poco. Eh, ma quello è solo. Oh, ma quello invece. Eh, ma guarda, conta più la professione che il Vangelo che quello che mi dice Gesù. a questo motivo vi racconto una bella storia sul lavoro. C'era un uomo che faceva il tagliapietre. Un lavoro pesante. Ah, che modo orrendo di vivere se fossi un riccone da stare a oziare tutto il giorno. Un giorno sentì una voce che gli disse tu sei ciò che vuoi essere. Quello che hai sempre desiderato una casa bellissima cibo squisito svaghi meravigliosi. E allora un giorno vide passare un re e disse ma senti voce fammi diventare re che possa essere potente tutti mi obbediranno e diventò un re. Voglio, voglio, voglio. Finché un giorno disse ma il sole è ancora più potente di me. Voglio essere il sole. Tu sei ciò che vuoi essere. E diventò il sole potente luminoso. Però a un certo punto vide in basso le nuvole che gli impedivano di entrare nella terra in terra. E allora disse no voglio essere nuvola. Tu puoi essere quello che vuoi essere le disse la voce. sì in fondo vivono libere nell'aria le nuvole. Tu sei ciò che vuoi essere disse la voce e diventò nuvola. Ma a un certo punto vide che la nuvola buttò dei goccioloni d'acqua sulla terra. E finirono quei goccioloni sulle pietre. Pietre dure forti. Non riesce a scalfirli pensò quell'uomo se potessi essere pietra. Tu sei ciò che vuoi essere disse la voce e diventò pietra. Ah finalmente adesso ho trovato la mia stabilità e la sicurezza che cercavo. La pioggia non mi scalfisce il sole mi riscalda il vento mi rinfresca ma un giorno vide una figura che si stagliava all'orizzonte picchiava la pietra era un tagliapietre era più forte della pietra lo modellava come vorrei essere il tagliapietre e il tagliapietre fu di nuovo tagliapietre dopo tutto ciò che avrebbe voluto diventare diventò di nuovo ciò che era sempre stato ma questa volta era felice tagliare le pietre diventata un'arte il suono del martello era musica la fatica della fine giornata era niente a confronto della bellezza del suo lavoro finché una notte si addormentò e sognò che le sue pietre diventavano una bellissima cattedrale che tutti potevano ammirare nel tempo e allora la chiamò la gratitudine la gratitudine di avere un lavoro in cui posso esprimere me stesso e trovare felicità è il figlio del carpentiere sogniamo tutti ragazzi un lavoro un domani diverso vogliamo fare questo quell'altro quell'altro ancora io vi auguro di essere come il figlio del carpentiere imparare per insegnare di essere